Lunga pagina dedicata al coronavirus, alla larga dalla psicosi, ma concentrati su notizie, informazioni, dati, numeri di riferimento, occhi aperti sugli sciacalli che stanno già colpendo, la polemica dei baristi, Confcommercio chiede sconti fiscali per chi è costretto a chiudere, il ministero recluta il varesino Grossi nella task force. Bancarotta fraudolenta, falsi crediti d'imposta, quattro persone arrestate, sequestrati beni per 12 milioni, in campo la guardia di finanza coordinata dalla procura di Buster Sizio. A Varese nuovi alloggi per studenti a prezzo ragionevole, grazie a un accordo tra comune e università dell'Insubra al centro dell'attenzione e dei 64 posti letto già individuati in rione di Biumo. Una via e un parco intitolati a Nelson Cenci, mitico tenente degli alpini, medico, poeta, il suo volto e la sua eredità spirituale trovano a casa, alle spalle dell'ospedale di Circolo. Buonasera a tutti e bentrovati in apertura a una lunga pagina doverosamente dedicata al coronavirus e soprattutto ai suoi effetti, soprattutto a quelli pratici, perché noi vogliamo come sempre stare alla larga dal sensazionalismo e da tutte le forme di comunicazione che finiscono per alimentare la psicosi. Cominciando però da un appello forte e chiaro, perché anche in questo caso puntuali come gli orologi si sono ripresentati gli sciacalli. Allora siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni presunti operatori di Croce Rossa si presentano addirittura indossando le divise da paramedici alla porta di alcuni cittadini, soprattutto anziani che vivono da soli, chiedono di poter accedere all'abitazione per effettuare il test con il tampone, insomma per verificare il contagio da coronavirus. Ebbene non aprite quella porta, non vi fidate, la Croce Rossa raccomanda di avvertire immediatamente le forze dell'ordine perché nessuno è autorizzato a iniziative di questo tipo. Quindi non aprite gli sconosciuti, meno che mai se fanno proposte di questo tipo e avvertite subito le forze di polizia. Nel frattempo, tornando alle notizie del giorno, sono successe tante cose in queste ultime 36 ore, 48 ore quasi. Per esempio l'ordinanza che poi ha avuto i suoi effetti più definiti dalla serata di ieri, quella che ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta la Lombardia, la chiusura delle chiese e anche qualora fossero rimaste aperte non possono celebrare messe, funzioni solenne, addirittura molte chiese hanno svuotato le acque santiere, sono chiusi i musei, i cinema, i teatri, sono annullate gli eventi culturali, aggregativi, sportivi, le feste popolari, come anche il carnevale che avrebbe dovuto celebarsi a Cassano Magnago, il carnevale di Venezia è saltato, a cascata sono saltate tutte le manifestazioni di quel tipo e tante altre vengono annullate minuto dopo minuto, questo per effetto appunto della circolare di Regione Lombardia. Un nodo particolare di cui andiamo a parlare tra poco è quello relativo agli esercizi commerciali, perché? Perché restano aperti operativi quelli che vendono beni di prima necessità e alimentari, vengono invece chiusi i bar dopo le 18, dalle 18 alle 6 del mattino, questo ha ingenerato delle polemiche di cui parleremo tra poco e a proposito degli esercizi commerciali costretti a chiudere i battenti, nel pomeriggio di oggi Confcommercio per voce del suo presidente nazionale Carlo Sangalli ha lanciato un appello al governo affinché sospenda i pagamenti legati alle prossime scadenze fiscali e contributive per poter appunto compensare le perdite che i commercianti subiranno a causa di queste forzate chiusure. Per quanto riguarda il primo servizio del giorno ascoltiamo il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, che fa il punto su quanto sta facendo Palazzo Lombardia in queste ore. Vediamo. Presidente Monti, in situazioni come questa del coronavirus non bisogna drammatizzare, tenere gli occhi aperti sì, ma dal punto di vista suo, istituzionale e politico, qual è il quadro? Stiamo seguendo con grande attenzione in tutta la Lombardia all'evolversi e la dinamica di questo virus. Ci siamo preparati al peggio, quindi abbiamo già dei piani di azione che coprono qualsiasi ambito di rischio. Il governo si è mosso, devo dire, tardivamente e questi sono i risultati che stiamo raccogliendo, il fatto che a macchia di leopardo stanno emergendo dei casi sul fatto che alcuni che da Codogno e da Lodigiano si sono mossi, per esempio il caso della Valtellina, di un ragazzo di 17 anni che però studiava lì a Codogno ed è tornato dai suoi familiari, il caso invece di chi è andato a sud. E ne abbiamo diversi, quindi l'attenzione è massima. Il governo adesso si è attivato anch'esso sulle misure più straordinarie. Dopodiché, per dare una giusta informazione, voglio ricordare che sotto i 70 anni il tasso di mortalità è inferiore allo 0%, sotto i 40 anni addirittura allo 0,2%. Il tasso di mortalità e quindi le persone che sono più a rischio sono dai 70 anni in su e quindi proprio a loro mi rivolgo per la massima cautela, evitare in questo momento ciò che è evitabile. Per quanto riguarda invece i ristoranti per l'appunto possono stare aperti, ma i bar dopo le 18 no. Ma a proposito della questione bar, andiamo ad ascoltare un noto titolare di un locale del centro di Varese che questi due pesi e misure proprio non li ha apprezzati. Vediamo. Aperitivo vietato, colazione e pranzi consentiti. È la componente più strabica dell'ordinanza che riguarda i pubblici esercizi, in prevalenza i bar, obbligati a chiudere i battenti dalle 18 alle 6 del mattino, restando però aperti dall'alba al tardo pomeriggio. A Varese la decisione è passata dalle parole ai fatti già ieri sera, quando la polizia locale si è presentata nei bar della città, come ci racconta Raffaele Bruscella, titolare di un noto locale del centro. Amici di Rete55, ciao Matteo Inziaghi, Varese sei bellissima, ma stranissima. Perché è stranissima? Perché ieri sera alle 10 sono venuti in tutti i bar di Varese, due, tre, quattro, nella polizia municinale, a intimarci di chiudere, che dovevamo chiudere il bar. Sembrava di stare, non so, in un film dove c'era la peste, o zombie, il ritorno dei morti di niente, cioè sembrava una cosa surreale. I bar, c'era quel poco di gente che ormai è rimasta nei bar di Varese e questi sono arrivati, dovete andare via tutti, dovete chiudere. Poi il buonsenso ha prevalso, ci hanno permesso a meno di finire il servizio, però è stata veramente una cosa surreale. Surreale, secondo Bruscella, è, come accennato, la scelta di lasciare aperti i bar dal primo mattino al tardo pomeriggio e di costringerli alla chiusura, dopo le 18, due pesi e due misure, che il cosiddetto schizzo sintetizza in una beffarda vignetta. Però, la mia domanda è, anche i ristoranti, anche i pub che hanno la licenza di cucina, quelli possono tenere aperto? Cioè, ristorante con tante persone dentro, è come un bar con tante persone dentro. Quindi, secondo me, si sta allarmando tutta la popolazione di supermercati che la gente va a comprare le cose. Cioè, ci sono i supermercati vuoti. Ragazzi, stiamo attenti tutti. Dopodiché, la rassegnazione, che se dovesse perdurare l'ordinanza, potrebbe trasformare i locali notturni in diurni. Comunque, da oggi siamo chiusi fino a data da... Vorrei dire che apriremo anche noi di giorno, quindi ci saranno il giorno pieno, pieno, pieno di gente. Aiutateci a capire. Ciao Matteo, ciao amici di DT55. Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro al professor Paolo Grossi, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Circolo. È stato infatti chiamato dal Ministero della Salute a far parte della task force incaricata di contenere la diffusione del coronavirus. E sempre su questo argomento andiamo invece a Gallarate, dove ci si è concentrati sulle misure prese a difesa di più anziani, segnatamente gli ospiti delle RSA, insomma delle case di riposo. Ci racconta tutto Deborah Banfi. Nessuna emergenza, ma semplici pratiche preventive volte ad evitare il contagio e la diffusione del nuovo coronavirus. Le tre RSA di Gallarate, Fondazione Bellora, Camelot e il Melo Onlus, affiancate dall'amministrazione comunale, diffondono facili regole che chiunque farà ingresso nelle strutture, come ospite, visitatore o dipendente, dovrà rispettare. Tra le principali, non sarà consentito l'accesso a persone provenienti dalla Cina o dalla cosiddetta zona rossa e a coloro che manifesteranno sintomi quali tosse, febbre o difficoltà respiratorie. I visitatori dovranno igienizzare le mani utilizzando la soluzione disinfettante messa a disposizione all'ingresso delle RSA. Si chiede inoltre ai cittadini di evitare di recarsi negli uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche e di moderare le visite agli ospiti delle strutture. Per quanto riguarda i servizi di RSA aperta, gli operatori coinvolti nel servizio domiciliare saranno dotati di camici monouso, mascherine e guanti. Sappiamo tutti che la popolazione più a rischio è quella anziana, quindi le RSA cittadine, che sono ben tre che ospitano oltre 500 anziani, sono quelle che hanno bisogno di maggiore attenzione. È per questo che ieri pomeriggio ho convocato qui nel mio ufficio le tre direttrici delle RSA cittadine e ringrazio davvero sia il Bellora che il Camelot che il Melo per il lavoro svolto questa mattina. Sono trovati, hanno messo giù delle regole semplici di buon senso, che sono quelle che utilizzeranno per definire gli ingressi e le uscite dalle loro strutture da qui ai prossimi giorni fin tanto che perdurerà questa psicosi del coronavirus. Questi provvedimenti, che sono semplici provvedimenti, sono stati ben accolti da tutti, un po' meno da qualche ospite, poverino, che è abituato magari a vedere il proprio parente tutti i giorni, però con un buon discorso educativo siamo riusciti comunque a convincerli. Insomma, penso che sia nell'interesse di tutti. Non c'è nessuna preoccupazione se non quella di evitare un contagio. Quindi noi mettiamo in atto tutte quelle precauzioni, ma che non c'è nessun rischio reale, se non quello di evitare che il contagio si diffonda. Per cui siamo veramente tranquilli in questo senso. Nessuna situazione di emergenza, solo l'utilizzo del buon senso per mantenere i nostri ambienti un luogo protetto per tutti, per gli ospiti, per i visitatori, per i dipendenti, ma nessuna situazione comunque di pericolo, di pregiudizio particolare in questo momento. E tra le misure attivate dall'amministrazione comunale di Gallarate, anche quella a supporto dei commercianti. Attivato il numero 0331 2859 00. Operatori preparati risponderanno a tutte le domande di negozianti e titolari di attività. Questa mattina ho risposto a, penso, due o trecento cittadini che mi hanno scritto privatamente, pubblicamente, chiamato sul cellulare, relativamente alle aperture. Abbiamo però deciso chiaramente di introdurre un numero che potesse valere per tutti i commercianti, per tutte le attività gallaratesi, a cui risponde un agente a polizia non aria o un addetto del SUAP, in cui spiega le previsioni dell'ordinanza regionale e ministeriale e chiarisce tutti i vari aspetti. Poi, per quanto riguarda i numeri di emergenza, anche su questo molto è stato detto, ma è necessario ribadire i concetti. Il numero 112, il numero unico di emergenza, è appunto un numero di emergenza. Bisogna chiamarlo in caso di reale bisogno. Non bisogna chiamare il 112 per ricevere informazioni sul coronavirus. A quest'ultimo fine è destinato un numero verde che in Regione Lombardia risponde al 800-89-4545. 800-89-4545. Potete chiamare questo numero verde per avere informazioni utili, così come potete chiamare il 1500, che è il numero del Ministero della Salute. Il 112 va chiamato solo se avete bisogno di soccorso. Per il momento ci fermiamo qui, ma vi invito a seguire sempre gli aggiornamenti che proseguono minuto per minuto sul nostro sito, rete55.it, e anche sulla nostra pagina Facebook. Quelli sono strumenti informativi che non si fermano mai. Anche quando non trasmettiamo il Tg, potete comunque tenervi informati attraverso i nostri canali internet. Adesso però cambiamo argomento perché ci sono anche altre notizie. Grazie al cielo cominciamo dagli alloggi a parezzo calmierato per gli studenti dell'Insubra. Studenti che sono sempre più numerosi, parliamo di coloro che arrivano da fuori provincia di Varese, rischiano però di non trovare sistemazioni e allora il Comune di Varese e l'Ateneo hanno stretto un importante accordo. Sentiamo. Un campus diffuso che ai collegi e agli alloggi garantiti dall'Università dell'Insubra raggiunga una serie di sistemazioni a prezzi calmierati, col duplice scopo di accogliere un numero crescente di studenti proveniente da fuori Varese e di agevolare il rilancio di alcuni quartieri, primo tra tutti Biumo. E' questo il nocciolo del progetto che vede fianco a fianco Palazzo Estense e Ateneo, parola d'ordine studentato che al momento nell'area di via Cairoli ha individuato una sessantina di posti letto, ma è solo l'inizio. E' un progetto che è stato sviluppato insieme all'Università dell'Insubra in cui crediamo molto soprattutto perché coinvolge i giovani, coinvolge l'edilizia popolare, un rilancio del commercio nella zona e dei servizi. La vicina Milano dimostra quanto sia in effetti attrattiva per commercio e luoghi di ritrovo l'apertura di nuove aree popolate da studenti, per di più incalza l'Insubra. La nostra Università vive un periodo florido quanto a immatricolazioni provenienti da fuori provincia, una domanda a cui bisogna rispondere presente con affitti calmierati e servizi adeguati, fornendo così una duplice possibilità al quartiere e ai giovani ospiti. La possibilità di avere a disposizione delle tipologie di alloggio a prezzi calmierati, quindi in un'ottica sociale e nel contempo poter vivere la città al cuore, quindi non essere collocati magari in zone più periferiche, più difficili da raggiungere, più impegnative, ma potendo stare nel cuore della città in un contesto che si sta sviluppando in maniera molto positiva, dove ci sono sicuramente tante potenzialità per sviluppare servizi e per avere la nostra popolazione di studenti giovani che può portare sicuramente un grande giovamento alla città intera sostanzialmente. Dalla cronaca invece nel basso Varesotto, ma in realtà per un'operazione di ben ampio raggio, bancarotta fraudolenta, falsi crediti di imposta tra Milano e provincia di Varese, arrestate dalla Guardia di Finanza, 4 persone sequestrate i beni per 12 milioni di euro. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero alterato i bilanci di società prossimi al fallimento o creati ad hoc per generare appunto crediti di imposta inesistenti. Il danno all'erario complessivo ammonterebbe a 50 milioni. Tra i quattro finiti in manette ci sono un commercialista e un imprenditore milanese che disponevano di 14 imprese con sedi prevalentemente nel Varesotto, che però esistevano solo sulla carta. Gli altri arrestati, tra i quali una donna residente nel Lazio, fornivano collaborazione nell'attività di gestione di queste società. Al termine delle indagini sono stati segnalati all'autorità giudiziaria anche altre 16 persone residenti tra Lombardia, Lazio, Calabria e Sicilia che avrebbero usufruito di queste prestazioni illegite. E ora di nuovo nel capoluogo per la grande manifestazione che ieri ha ricordato e celebrato un grande alpino, un grande medico, un grande poeta. Nelson Cenci. Il tenente Cenci, sorridente, mi aspettava in piedi con la sua divisa pulita e il passamontagna risvoltato intorno al capo come il turbante di un indiano. Così, nelle pagine del sergente nella neve, Mario Rigoni Stern ricorda l'amico e commilitone Nelson che con lui e con tanti altri alpini condivise la campagna di Russia e che riuscì a tornare a casa vivendo una seconda, lunga esistenza umana e professionale. Perché in tempo di guerra fu soldato, ma in quelli di pace, fu medico, primario di Otorino la ringoriatria all'ospedale di Circolo, dietro al quale da ieri mattina una via e un parco portano il suo nome. E non sarà un giardino qualunque, ma un'area densa di serenità, storia e poesia. La stessa che in tanti versi ha accompagnato l'incedere artistico di Cenci, maestro di penna, di rima, di evocative pagine. L'idea è di coinvolgere giovani e meno giovani in un periodico concorso che imprima i testi dei vincitori qui, accanto all'immagine e al nome del mitico tenente e allo splendido mosaico alpino realizzato con la consueta maestria da Umberto Croci nel suo laboratorio di Piazza Motta. All'intitolazione, organizzata dal gruppo di Varese, hanno partecipato centinaia di persone, alpini provenienti da tutta Italia, medici in pensione che con Nelson avevano lavorato gomito a gomito, gente comune, amici di una volta come il notaio Bortoluzzi, 102 anni di invidiabile energia, e amici delle signore Cenci, la moglie e le figlie, grazie Giuliana. Tanti vessilli, tante penne nere, un senso di appartenenza che travalica l'esperienza dei singoli per diventare filosofia di vita. Cosa significa celebrare così Nelson Cenci? Significa ricordare una figura di un uomo, di un alpino, che ha fatto il suo dovere fino in fondo, lo ha fatto durante i tragici momenti della campagna ritirata di Russia, dove grazie a Dio è riuscito a rientrare, lo ha fatto anche dopo nella propria vita fino alla fine. Oggi Varese è davvero capitale degli alpini? Ma oggi noi siamo fierissimi di poter dedicare appunto innanzitutto agli alpini, poi tra le tante figure che gli alpini di Varese hanno conosciuto e diciamo visto passare abbiamo scelto Nelson perché Nelson non rappresenta solo gli alpini ma rappresenta anche la società civile perché siamo qua vicino all'ospedale di Circolo dove Nelson è stato primario dell'ospedale per cui vogliamo ricordare l'uomo. Presidente c'è anche da dire che intitolare una via a un alpino significa anche perpetuare l'eco delle penne nere che con la fine della leva obbligatoria rischia un po' di spegnersi. Sì, quello che noi abbiamo nel nostro statuto, uno degli elementi fondamentali che è quello della memoria, quella del ricordo, quello di onorare i nostri caduti, quello di portare anche alle giovani generazioni, quelli che sono i valori veri di una società, la capacità cioè di essere pronti subito e sempre, soprattutto anteponendo il proprio dovere ai propri diritti. A seguire un nutrito corteo raggiunto la cappella dell'ospedale per una messa solenne salutata con forte intensità dal coro Campo dei Fiori. Il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura, con benignità che le sue crea pure. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori, oggi ben soleggiato con passaggi nuvolosi al mattino. Ancora molto mite per effetto favonico con massime spesso oltre i 15 gradi. Vento forte in montagna in mattinata. Dopo le sigle la pagina sportiva, in realtà, come accennato, non c'è molto da dire perché le gare, le competizioni, le partite sono state tutte sospese. Però i colleghi di Biancorossignoso, Bruce, Bruce e Andriola hanno comunque un punto da fare e da condividere con voi. Io mi fermo qui, vi ricordo gli aggiornamenti su rete55.it e per il resto ci vediamo nei nostri TG. Arrivederci.